Buonasera a tutti, grazie per essere qui durante la conferenza, grazie per essere intervenuti, grazie soprattutto agli ospiti, al pubblico per essere qui, agli ospiti, Gabriella Coleman, la ringraziamo ancora per aver accettato di far parte ancora ulteriormente di un panel, dopo aver parlato comunque quasi due ore, grazie a Leon Invisible e in particolare Clemente Pestelli, che se ne sta andando, che ha un problema con la cuffia, e Jonathan Quintini, che è qua alla mia sinistra. Abbiamo ancora un qualche secondo per qualche problema tecnico. Parliamo anche noi di democrazia, di politica, ma con un elemento in più rispetto alla conferenza di Gabriella, che ha parlato invece di hacking. Parleremo anche di quello che gli artisti fanno, di quello che l'arte, come gli artisti hanno risposto e stanno rispondendo e risponderanno alle trasformazioni sociali, economiche e politiche che inevitabilmente internet, la rete e i social media stanno influenzando sulle nostre vite, sulle nostre scelte politiche, sui nostri gusti e su tutto quello che usiamo e facciamo tutti i giorni. Inizierò con un... ecco, io non sapendo il tipo di pubblico, farò una brevissima introduzione su un po' un trascorso di quello che è stato un po' la net art, la cosiddetta l'arte che usa la rete, cioè gli strumenti della rete, la rete come un linguaggio e non come uno strumento tecnico, non parliamo di riproduzioni di fotografie o di opere online, ma parliamo proprio della rete come linguaggio, ma adesso sembra magari un concetto un po' oscuro, ma man mano lo sciogliamo. E di quando sono cominciate queste attività, che hanno una connotazione non solo estetica, ma sociale e soprattutto politica. Quindi, tra le prime... dunque la net art, in particolare l'arte che unisce, che combina la rete, l'attivismo e la cultura digitale, l'arte, sono cominciate a metà degli anni 90 circa, e hanno riguardato soprattutto un atteggiamento che era già diffuso in quel periodo, legato al cosiddetto neoismo, quindi a degli interventi soprattutto urbani, che facevano gli artisti in tutto il mondo. E che automaticamente hanno trovato internet come un palcoscenico, uno strumento, talmente duttile, talmente facile per loro, talmente a portata di mano, che ne hanno utilizzato immediatamente le caratteristiche. Io qua ho portato come esempio un lavoro di Eva e Franco Mattes, che è Vaticano.org, come vedete, del 1998. Si tratta di uno scherzo, cioè all'epoca la Santa Sede si era dimenticata di registrare Vaticano.org come dominio. Questi due artisti, ovviamente Beffardi, hanno assolutamente acquistato il dominio, il sito, e hanno riprodotto un sito falso, un vero fake, in tutto e per tutto, identico a quello vero, che ancora oggi ha questa texture, che ancora oggi tra l'altro ha questa estetica. Vaticano.org è un sito che è rimasto online un anno, prima che loro fossero scoperti, e aveva la caratteristica di riportare qualche piccola modifica riguardo ai contenuti che normalmente si trova sul sito della Santa Sede, ovvero inneggiava l'amore libero, per esempio, o faceva dire al Papa che effettivamente l'amore libero in fondo era una bella cosa, così il consumo di droghe leggere non poteva essere che una cosa positiva. Ma non solo, durante il giubileo si poteva mandare una richiesta via e-mail a questo sito per ricevere l'assoluzione dei propri peccati online, che sinceramente potrebbe anche essere un domani utilizzato anche dalla Santa Sede per dare l'assoluzione di tutti i peccati via internet, perché non usarlo, questo Papa sembra anche moderno. Quindi prank, identità collettive, ma anche furti d'immagine. Questo ovviamente oltrepassa la legalità. Quando sono stati scoperti, hanno avuto questi due artisti di problemi legali, a loro non interessava entrare in una battaglia legale, perché loro era proprio un intervento, una provocazione fino in fondo, ma comunque sono riusciti a far emergere una problematica importante della rete, cioè che la gente, le persone non hanno strumenti culturali per poter individuare i falsi in rete, o comunque l'ingenuità dei credenti, dei cristiani, di tutti i cattolici, di tutto il mondo, non hanno dubitato nemmeno per un secondo di aver incontrato un sito vero o un sito falso. E quindi allora la cultura digitale, quella di cui in Italia purtroppo si parla ancora molto poco, è un bisogno di tutti, deve essere davvero insegnata dalle scuole, se ci sono ancora gli studenti, ed è importante per focalizzare alcune problematiche. Quindi quali sono le strategie che gli artisti utilizzano, ma anche per quale visione critica, poi parleremo anche sia con Clemente e Jonathan, qual è la visione critica dell'ordine politico-economico, ma anche con Gabriella, che è contemporaneo. Quindi all'inizio dell'attivismo in rete, arte, attivismo e rete, i primi ad essere attaccati erano le corporation oppure le istituzioni. Allora quindi provocazione, ironia, spiazzamento. Ho voluto mettere questi due esempi, molti li conosceranno già, cioè il Barbie Liberation Organization, è stato fatto da questo gruppo di attivisti, artisti, Artmark, nel 1993 e successivi. Il Barbie Liberation Organization era un comitato che voleva attaccare la Mattel, che comunque è un'azienda monopolista in un ambiente di gioco, perché ristringeva moltissimo le problematiche di genere, lo sappiamo tutti, l'estetica della Barbie e l'estetica della donna perfetta. E quindi diceva, no, fanno dire appunto alla Barbie e a Ken, a noi siamo forzati, come se fossero dei prigionieri nei loro stereotipi sessuali, siamo forzati a fare e a dire delle cose che in realtà noi non vogliamo, quindi liberateci. Da questo prank, da questo scherzo molto simpatico, sono nati anche in Italia, per esempio, il Comitato di Liberazione dei Nanetti da Giardino, se non mi sbaglio. Luther Blissett è un'identità collettiva. Prima Gabriella ha parlato di Anonymous come di un'identità collettiva, dietro la quale si nasconde qualcuno. Allora, gli artisti l'avevano già fatto, anche qui a partire da metà degli anni 90. in Italia, questo Luther Blissett è nato a Bologna. Luther Blissett è un esperto di calcio, un professionista, un calciatore in realtà, che ha questo viso, un calciatore inglese, che si è perso, ha fatto delle mostre, ha fatto dei convegni, ha scritto un libro, per esempio, Q è stato scritto da Luther Blissett, per cui è stato usato come identità collettiva da una miriade di artisti, gente che poi oggi fa il pubblicitario, giornalista, eccetera. È stata un'esperienza straordinaria, quella di Luther Blissett, perché ha coinvolto tutta l'Europa e anche altri paesi nel mondo. Dietro questo personaggio si nascondevano, ma anche si, come dire, arricchivano la sua identità. È diventato un po' un passepartout per poter dire e fare quello che si voleva, non in prima persona, distribuendo la responsabilità, ma anche creando la prima esperienza di attività collettiva. Cioè la collaborazione che nasce proprio dalla rete, la collaborazione orizzontale tra pari, il famoso peer-to-peer, in questo caso si è incarnato in una serie di opere d'arte, quindi di un attivismo incredibile. Ecco, l'artista come agente provocatore non nasce però a metà degli anni 90. Già il dadaismo, fluxus, la male art, il situazionismo in particolare, il neoismo e l'interventional art hanno creato dei precedenti. Dada era follia, era sovversione, era intervento, era spiazzamento del pubblico. La poesia dada era cercare delle parole in un sacchetto delle lettere, comporre delle parole, delle poesie completamente astratte. Era la liberazione anche dell'inconscio. In quegli anni Freud ha scoperto l'inconscio, il concetto dell'inconscio, quindi tutto quello che noi non vediamo, ma che possiamo far emergere all'interno di noi stessi. Allora, l'arte non è più il pennellino, non è più il paesaggismo piemontese, non è più nemmeno Van Gogh, ma diventa qualcos'altro, diventa uno strumento che riprende elementi della nostra realtà, li ricombina, li remixa per dargli un significato nuovo. Allora, arriviamo subito a un pezzo forte dell'arte e dell'attivismo. Ora, io non so quanti di voi conoscono gli Yes Men. Nessuno? Ok. Sì, qualcuno? Benissimo, qualcuno che... Allora, gli Yes Men è un duo americano che... sono rappresentati da... Dunque, i nomi sono Jacques Servan e Igor Vamos, li devo leggere, perché in realtà loro hanno avuto tantissime identità, hanno avuto tantissimi pseudonimi in rete, e si sono sempre presentati con nomi diversi. Il perché lo scopriremo tra pochissimo. Allora, gli Yes Men in quegli anni costruiscono un sito esattamente identico, un sito fake, del World Trade Organization, cioè una specie di camera di commercio, paragonabile alla nostra camera di commercio, però mondiale. All'interno di questo sito, perfettamente uguale a quello del World Trade Organization, ci sono una serie di aziende, con vari profili, email, eccetera. Allora, in questi anni, gli Yes Men, questo duo, vengono contattati da molti giornalisti, università, avvocati, eccetera, per fare delle conferenze. Vanno in queste conferenze, fanno delle conferenze leggermente false, cioè loro non volevano perdere credibilità, ma per esempio si presentano dicendo che sì, lo sfruttamento della persona umana è in fondo un rischio economico di alcune corporation, ma insomma è un rischio assolutamente accettabile, e alla fine riscuotrano moltissimo successo. Un giorno, l'anniversario del disastro di Bhopal, per chi non lo conosce, Bhopal è una piccola cittadina nel nord dell'India, dove una corporation americana, la Down Chemical, tramite la Union Carbide, che è una loro società nel 2004, cioè, scusate, nel 1984, ha causato un disastro chimico impressionante, causando la morte di 18.000 persone. Questa corporation, la Down Chemical, non si è mai... Sì, c'è stato un processo, loro si sono riconosciuti colpevoli, ma non hanno mai fatto niente economicamente per queste popolazioni, che hanno continuato, tra l'altro, a morire nei successivi 10-15 anni, proprio per questo disastro ambientale. Il giorno dell'anniversario, nel 2004, la BBC scrive una lettera, un'email, al sito, all'organizzazione, al sito fake degli Yes Men, chiedendogli un'opinione, se qualcuno della Down Chemical voleva fare un intervento, e sì, gli Yes Men hanno risposto sì, veniamo a fare l'intervento, e questo Jude Finisterra, che è uno degli Yes Men, in persona uno, lo Spokeman, cioè rappresentante della Down Chemical, e velocemente vi farei vedere questo video. Per... ...Jude Finisterra, he's a spokesman for Down Chemicals, which took over Union Carbide. Good morning to you. A day of commemoration in Bhopal, do you now accept responsibility for what happened? Steve, yes. Today is a great day for all of us at Dow, and I think for millions of people around the world as well. It's 20 years since the disaster, and today I'm very, very happy to announce that for the first time Dow is accepting full responsibility for the Bhopal catastrophe. We have a $12 billion plan to finally, at long last, fully compensate the victims, including the 120,000 who may need medical care for their entire lives, and to fully and swiftly remediate the Bhopal plant site. Now, when we acquired Union Carbide three years ago, we knew what we were getting, and it's worth $12 billion. $12 billion. We have resolved to liquidate Union Carbide, this nightmare for the world and this headache for Dow, and use the $12 billion to provide more than $500 per victim, which is all that they've seen, a maximum of just about $500 per victim. It is not plenty good for an Indian, as one of our spokespersons unfortunately said a couple of years ago. In fact, it pays for one year of medical care. We will adequately compensate the victims. Furthermore, we will perform a full and complete remediation of the Bhopal site, which, as you mentioned, has not been cleaned up. When Union Carbide abandoned the site 20 years ago, or 16 years ago, they left tons of toxic waste, which continues, the site continues to be used as a playground by children. Water continues to be drunk from the groundwater underneath. It's a mess, Steve. It's a mess, certainly, Jude. That's good news that you have finally accepted responsibility. Some people would say too late. It's three years, almost four years on. How soon is your money going to make a difference to the people in Bhopal? Well, as soon as we can get it to them, Steve, we've begun the process of liquidating Union Carbide. This is, as you mentioned, late, but it's... Ok, il video va avanti. Ecco, ovviamente, c'è il coso... Scusate, solo un secondo, ma ho quasi finito, comunque. Quindi dovrebbe resistere ancora dieci minuti. Allora, questo video, questa intervista, ha causato un danno alla Down Chemical di 80 miliardi di dollari persi in borsa in un giorno. Molto di più di quello che loro potevano investire, impiegare per davvero risanare la zona di Bhopal dal disastro chimico. Allora, questo è un'attività di attivismo, artivismo. dove il motivo è proprio questo, cioè Lies can expose the truth. Allora, dire una bugia, presentarsi alla BBC, travestirsi da rappresentante legale di una grossa corporation, ecco che poi arriveremo anche a un ponte, quello degli estman per arrivare al lavoro delle lienze visibili, può rappresentare, e lo chiedo anche a Gabriella, può rappresentare un modo per fare merito nella verità, per far emergere anche una serie di problematiche intrinseche nella società, di cui prima non si parlava, perché i media erano solo insomma quelli one way, quelli dall'altro verso il basso. Oggi le potenzialità della rete, al di là dell'hacking, eccetera, ma attività di questo tipo, quanto hanno cambiato anche le forme di aggregazione e quante le forme di partecipazione si stanno sviluppando attorno anche sui nuovi concetti di democrazia, cioè quale nuovo concetto di democrazia può emergere in una situazione di questo tipo. Allora, in effetti, ecco, un'altra, l'ultima diapositiva è proprio il tema della biennale di quest'anno. Allora, l'artista, che è un agente provocatore, è un hacker, attenzione poi, una cosa che ci tengo a dire, gli artisti non sono anonimi, mettono la loro faccia, è vero che certe volte hanno usato un nome collettivo, ma quasi tutti no. Esempi come quelli che ho fatto, ce ne sono centinaia, se ci sarà un'altra occasione, le potremo approfondire, sarà molto interessante scoprirli, perché hanno fatto delle cose veramente straordinarie, hanno ricevuto anche dei guai legali, hanno pagato delle multe, si sono esposti per quello che sono loro, hanno un passato, sono stati però invitati in tutto il mondo, hanno ricevuto dei premi, invitati per tenere conferenze, per spiegare qual era il senso del loro lavoro, sia sociale, politico, e soprattutto, ma soprattutto anche artistico. Allora, da che parte stanno gli artisti attivisti? E io ho fatto un elenco di elementi che vorrei anche condividere col pubblico per capire un po' insieme questo fenomeno. E se sia Jonathan e Clemente vogliono aggiungere, togliere o parlare di qualcuno di questi, altrettanto Gabriella, cioè gli hacker, che etica seguono, qual è la loro mission principale? Abbiamo detto, ok, distruggere, far emergere, eccetera, ma c'è, soprattutto gli anonimi, che sono un gruppo, un collettivo enorme, gente che non si conosce tra di loro, gente che ha messo la propria faccia però poi si è tirato indietro. Allora, qual è l'etica che veramente accompagna la loro attività? L'ultimo lavoro è quello di Paolo Cirio, Persecuting, appunto, Persecuting è un lavoro, è una selezione di, per appartenenza politica, di una serie di profili che sono sui social network, cioè tutte queste persone sono state profilate, quindi sono stati rubati questi profili da Paolo Cirio, semplicemente collezionando tutti i tweet che le persone sono scambiate dopo una conferenza, durante l'elezione del presidente americano nel 2012, tra repubblicani e democratici. per appartenenza politica. Allora, sappiamo benissimo che finché ci rubano il profilo per venderci qualcosa e quindi avere un uso filantropico, ok, va bene, ma se un domani il nostro profilo andasse oltre, andasse veramente in campi della privacy che noi non vogliamo mettere online, cosa accadrebbe? Io allora in questo momento con queste domande sospese vorrei passare la parola a Clemente e Jonathan e dopo a Gabriella e poi raccogliere le domande con voi. Grazie di essere venuti, grazie a Simona dell'introduzione che ci aiuterà tantissimo a sviluppare poi quello che sarà il nostro intervento. Io e Jonathan facciamo parte di questo collettivo che si chiama Leliano Invisible e che ha operato nell'ambito di quella che possiamo definire net art. Scusate, problemi tecnici. Allora, io ci tengo sempre a precisare quando mi parlano di arte e attivismo mi dicono ma te sei un attivista con tutto il profondo rispetto che ho nei confronti di attivista io credo che il nostro lavoro sia un po' diverso. Indubbiamente ha dei punti di contatto ma non mi sento propriamente di definire il nostro lavoro come attivistico. Fa parte di questo filone della net art che come spiegava Simona è un filone che nasce intorno alla metà degli anni 90 e che comunque si è sviluppato in vari rivoli e che per sua natura come dire ha molti punti di contatto con l'attivismo e con temi legati anche alla democrazia che poi sono un pochino le cose di cui parleremo oggi. Noi facciamo parte per così dire della seconda ondata di net art quella sviluppata intorno alla metà degli anni zero e che era il periodo indicativamente della nascita del web 2.0 Torno sul punto che ha evidenziato Simona ovvero che quando si parla di net art in genere il luogo comune è quello di un'arte su internet comunque legata molto al discorso tecnico net art è anche internet ma è più un discorso di networking cioè il networking la cooperazione sono un elemento fondamentale di queste pratiche il fatto che poi si sviluppino attraverso la rete internet è come dire necessario per certi versi ma non non è quello il punto della questione perché in cosa diciamo consiste poi il nostro lavoro oggi vi parleremo di quella parte di lavoro che diciamo abbiamo sviluppato nel periodo del cosiddetto web 2.0 consiste nel vedere appunto la rete così come la conosciamo anche oggi non solo come uno spazio all'interno di un monitor ma come uno spazio pubblico oramai la realtà che viviamo è sempre più mediata dalla dimensione delle reti telematiche e in questo senso è importante sviluppare delle come dire delle riflessioni che tengono conto di questa cosa cioè noi quando siamo su un social network noi stiamo abitando uno spazio pubblico ma sappiamo quali sono le regole che regolano questo spazio pubblico ecco come artisti noi ci siamo interrogati nel pieno diciamo dello sviluppo di come dire di queste nuove piattaforme e chiaramente questa cosa ci ha portato ad avere molti punti di contatto con come dire con battaglie di attivismo e con vere e proprie questioni legate alla cosiddetta democrazia elettronica allora il primo progetto visto che Simona ha ampiamente diciamo dibattuto sulle strategie di sabotaggio culturale quindi dell'utilizzo del fake anche noi partimmo in qualche maniera la nostra come dire il nostro tipo di ricerca proprio da questo tipo di aspetto ovvero il falso il falso in rete e trovo che oggi parlarne qui sia ancora più interessante perché in un certo senso abbiamo come dire sviluppato tutto un ragionamento e oggi ne vediamo il rovescio della medaglia oggi si parla di post truth si parla di posterità si parla di fake news che era in qualche maniera come dicevo prima il rovescio di quello che andavamo dicendo noi all'epoca inizio a contestualizzare un attimo il tipo di lavoro innanzitutto non so se ricordate il web 2.0 che cos'è il web 2.0 è l'evoluzione di internet che abbiamo vissuto intorno alla metà degli anni zero appunto che come lo stesso Time ci ha ricordato come nel nel 2007 mette l'utente come soggetto attivo nella produzione di informazione ora può sembrare scontato sono passati più di dieci anni e questo può apparire normale in realtà non era così perché la prima fase della rete i grandi colossi della rete interpretavano il modello di comunicazione della rete esattamente come il modello televisivo cioè uno a molti le grandi corporation vedi Google vedi lo stesso Facebook successivamente hanno però capito che c'era una domanda che cresceva tra le altre cose viene in mente i movimenti no global c'era una domanda di partecipazione democratica alla produzione dell'informazione io ricordo sempre volentieri il periodo di Indymedia che è stato un po' il periodo utopico della rete in cui si si è provato dal basso a costruire un'informazione che concorreva all'informazione dei grandi network e soprattutto provava a costruire racconti della realtà differenti ecco il web 2.0 e in primis Google raccolgono questa domanda e in qualche maniera la mettono a profitto è il periodo appunto della nascita della blogosfera cioè dove con pochi strumenti ogni utente poteva fare un blog di controinformazione piuttosto che un blog di cucina o qualsiasi altra cosa cioè l'utente diventa il punto centrale e come dire le corporation che inizialmente osteggiavano questo tipo di modello capiscono che in realtà è una miniera d'oro perché avevano la possibilità di avere persone che in qualche maniera producevano contenuti gratuitamente in questo scenario la controinformazione chiaramente in un certo senso veniva snaturata cioè noi all'epoca la controinformazione aveva quell'alone per cui era un lavoro di ricerca sotterraneo che richiedeva un grosso sforzo la controinformazione che nasce invece in questo periodo è in qualche maniera e oggi ne vediamo anche in qualche maniera in certi frangenti i risultati finali è invece un lavoro in cui si pensa che l'importante è fare circolare l'informazione e non l'approfondimento dell'informazione sì in realtà questa fase stiamo parlando 2006 2007 vedeva molto ottimismo una visione molto edulcorata di quello che poi sarebbe stato il futuro promosso da questa copertina qua potevamo diventare chiunque tu in questo caso il produttore dei contenuti e cambiare il mondo cioè sembrava comunque che il progresso fosse una cosa a senso unico verso un ottimista futuro dove tutti avremmo avuto la possibilità di comunicare meglio comunicare con gli altri fare emergere verità e poi come abbiamo visto dieci anni dopo ci siamo trovati in uno scenario leggermente diverso ma su questo ci arriviamo quello che effettivamente noi volevamo proporre con questo progetto fake is a fake era la possibilità di fare quello che abbiamo visto fare a franco mattes con vaticano.org a persone che in realtà non avevano gli strumenti tecnici per farlo quindi non avevano la possibilità di creare un sito internet per conto loro però noi gli avevamo la possibilità di improvvisare il proprio sito fake utilizzando la cornice di un altro sito per promuovere i propri contenuti per una questione di autorevolezza dei contenuti che avrebbero pubblicato potevano per esempio prendere come template cioè come schema del sito la home page della Casa Bianca un sito web di notizie come Repubblica le Figaro e così via nel modo in cui loro potevano poi pubblicare un blog che però non era in realtà un blog ma era un vero e proprio sito con contenuti inseriti dentro una cornice che era autorevole sì questo poi sostanzialmente è il concetto di cui parlava anche prima Simone dell'Yes Man della sovraidentificazione ovvero che la comunicazione l'atto della comunicazione come dire non è il contenuto in sé stesso che definisce poi come dire gli effetti della comunicazione ma un'altra parte importante è come dire chi emette questa informazione la sovraidentificazione significa indossare una maschera e parlare con la faccia di qualcun altro voi immaginate un personaggio famoso che viene qui oggi ci dice che è scoppiata la guerra tutti siamo disposti a crederle perché se vengo io a dirvi oggi è scoppiata la guerra non mi credete il fatto è che chi dice chi emette il messaggio in qualche maniera influenza il messaggio stesso e questo era un pochino il concetto che stava alla base diciamo del nostro progetto ovvero in un periodo di abbondanza dell'informazione perché la nascita della blogosfera ha comportato la crescita del rumore come è possibile rendere più efficace la comunicazione e noi ovviamente proponevamo una cosa surreale e come dire se vogliamo anche ridicola ovvero vesti il tuo blog con come dire con la maschera di un sito istituzionale con il sito di un giornale e promuovi i tuoi contenuti come se fossero i contenuti di una grande testata giornalistica per esempio quindi il nostro lavoro era in cosa consisteva consisteva nell'aver creato una piattaforma che dava a tutti gli utenti la possibilità di costruire il proprio falso il proprio e ciascuno poteva poi interpretare queste cornici utilizzando i contenuti che voleva chiaramente ne sono poi ne sono nati scherzi mediatici che non dipendevano poi direttamente da noi cioè l'idea era come dire far evolvere quella che era stata una pratica pionieristica diciamo dei primi anni 90 a una pratica diffusa e qualcuno immagino che potrebbe dire sì ma perché è molto semplice per due motivi innanzitutto funziona dal punto di vista di chi produce l'informazione in questo contesto perché si rende conto veramente di quanto la maschera dia valore al contenuto in secondo luogo il senso ultimo era quello non ci dobbiamo fidare di nessuno cioè se io so che potenzialmente ogni notizia è falsa potenzialmente io non so che devo sempre stare attento che non c'è nessun autorità autorevolezza che in qualche maniera mi può garantire che quello che sta dicendo è vero infatti diciamo poi il progetto si chiamava a fake is a fake cioè il falso non è altro che un falso e il concetto era strettamente questo facciamo una carrellata su un caso studio che abbiamo sviluppato per esempio abbiamo fatto un'occasione dell'onda anomala del 2008 un sito web alternativo del ministero dell'istruzione oppure sempre per il 2008 per le olimpiadi di Pechino abbiamo avuto la possibilità di prendere il dominio peking2008.com e metterci sopra nel contesto del sito internet ufficiale dell'olimpiadi di Pechino un video che praticamente metteva in luce delle immagini che erano andate in onda fuori dalla Cina pro Tibet questo è il video che andava in onda ci sono problemi sull'audio comunque vi racconto un pochino meglio quello che era il contesto il contesto era vi ricordate tutti le olimpiadi del 2008 la Cina in qualche maniera si presentava di fronte al mondo come una nuova rinnovata potenza e contestualmente poco prima ci furono emerse la questione Tibet ora vabbè non è un problema era l'inno cinese comunque vabbè non è un problema sì tanto quindi sostanzialmente l'obiettivo quale era era mostrare quanto la comunicazione in qualche maniera e la propaganda potessero essere smontati e il meccanismo come dire la modalità fu abbastanza semplice registrammo un dominio molto simile a quello diciamo delle olimpiadi perché tutti soprattutto in occidente conoscono Pechino attraverso il suo nome come dire occidentalizzato che è Peking mentre il sito ufficiale era registrato invece come Beijing e clonammo in tutto e per tutto il sito diciamo delle olimpiadi della manifestazione quindi in Europa così come negli Stati Uniti cercando informazioni sulle olimpiadi si finiva casualmente su questo sito e cliccando in qualsiasi punto il sito scompariva e compariva questo video che vedete alle spalle e che in qualche maniera voleva dimostrare l'efficacia della comunicazione del fake publishing come l'avevamo chiamato cioè della comunicazione sovraidentificata sì prima diceva Clemente che facciamo prima una parlamica su questo questo invece è un progetto dell'ESMAN a cui abbiamo collaborato esternamente per la parte web e che riguardava praticamente la creazione di giornali cartacei del New York Times un'edizione straordinaria del New York Times distribuita in oltre un milione di copie a New York e in altre città americane in cui praticamente si creava questa falsa edizione straordinaria in realtà di sei mesi successivi alla data in cui veniva distribuito era un'informazione di tipo ottimista per cui si diceva che la guerra in Iraq allora non era ancora conclusa sarebbe stata conclusa in realtà non lo è ancora comunque questa era il tipo di informazione che veniva proposta un po' per fare pressione neanche eravamo in campagna elettorale su chi avrebbe poi vinto la campagna elettorale per arrivare a una soluzione su questo tipo di problema il giornale in realtà si articolava anche in molte altre pagine e c'erano anche in particolare le pubblicità abbastanza divertenti e era tutto un insieme di notizie false la differenza però rispetto a quelle notizie false di cui parliamo spesso oggi era l'intenzionalità perché comunque in questo caso si voleva promuovere un tipo di informazione che non era realtà informazione era un far riflettere su un argomento utilizzare quindi la notizia come mezzo e quindi la nostra predisposizione a leggere una notizia come uno strumento per poi passare un messaggio e questo era l'obiettivo non solo una cosa qui io tengo particolarmente invece è proprio il discorso mentre delle fake news di cui si parla tanto oggi sono molto basate sull'odio questo questo lavoro secondo me è molto esemplificativo di che cosa del raccontare storie belle cosa significa raccontare una storia bella beh innanzitutto in generale quando ci raccontano una storia noi sappiamo che è finta ok quindi è come dire è circondato da una sorta di cornice che la protegge e che come dire la tiene distante da noi un esempio come questo invece è un esempio di raccontare una storia i cui confini non sono netti non sono definiti e soprattutto in prima battuta sono credibili come dire lo stimolo a raccontare storie positive in qualche maniera io credo che sia necessario soprattutto in quel periodo in cui nella guerra appunto in Iraq il sistema mediatico era come dire saturo di immagini diciamo abbastanza come dire incentrato sull'orrore sulle decapitazioni eccetera quindi in qualche maniera la fake news cioè la la notizia falsa è un racconto che può far capire alle persone che nulla è impossibile in qualche maniera cioè l'intento poi del progetto era quello era in qualche maniera sì per certi versi illudere no? però illudere e quindi creare una tensione positiva nei confronti del possibile della realtà dicevamo prima invece del contesto attuale che vede parlare spesso di fake news dobbiamo dire che quando noi abbiamo fatto il progetto fake is a fake i blog che le persone potevano aprire erano di questo tipo stiamo parlando della preistoria a questo punto dei siti web la visibilità che un sito di questo tipo aveva era abbastanza limitato nei confronti di testate giornalistiche molto importanti nel tempo c'è stato un po' un livellamento in cui i blog hanno incrementato la loro autorevedezza soprattutto grandi penne ma non solo mentre l'informazione tradizionale cercando comunque di inseguire il contemporaneo la freneticità dell'informazione ha un po' abbassato forse il livello del contesto questo ha provocato un livellamento dell'informazione che vediamo oggi questo per esempio è stato un punto di svolta un sito di blog che è diventato un sito di informazione ufficiale però vediamo anche per esempio questo sito qua che è un sito della galassia alt-right americana gestito da un noto blogger chiamiamo in gergo influencer un noto blogger americano Alex Jones che è un personaggio un po' particolare innanzitutto propone delle notizie del tipo complottistico più spinto in assoluto cose del tipo il governo che mette nell'acqua potabile delle rubinetti delle gay bomb che farebbero diventare le persone omosessuali e le rane che sono diventate ormai tutte omosessuali e notizie di questo tipo ed è stato uno dei più tenaci sostenitori della campagna elettorale di Trump qui lo vediamo per esempio in un video in cui purtroppo non si può sentire l'audio o per fortuna attacca Trump attacca scusate la Clinton e Obama dicendo che sono dei demoni e che odiano tutti odiano il benessere odiano voi le vostre aziende odiano i cani i gatti i bambini in particolare no non lo sentiamo vabbè ce lo perdiamo non lo sentiamo non lo sentiamo God People are so evil Why can't America wake up and beat them Donald Trump's not perfect But he doesn't want to hurt you and your family Hillary and Obama Want to make you poor and pathetic We have all their white papers They hate you They hate prosperity They hate God They hate children They goddamn them We're going to find the lever to beat these People and they're going to be beat Look at her sharp face Abbiamo capito insomma Vi racconto soltanto quest'altro aneddoto Perché è divertente Un aneddoto che tra l'altro Riguarda anche in parte In maniera molto marginale Wikileaks Perché cosa è successo? Qualche mese fa Delle mail trafugate dal partito Democratico Sono state pubblicate da Wikileaks In realtà il contenuto non era particolarmente interessante Ma qualcuno ha pensato In ogni caso di inventarsi Che era contenuta una notizia lì dentro Che poi in pochi sono andati effettivamente a verificare La notizia è dell'assurdo Questa pizzeria che si chiama Comet Ping Pong Secondo queste presunte mail Conterrebbe nei suoi scantinati Che peraltro non ha Una sorta di mercato dei minori Sfruttamento sessuale dei minori Gestito da Hillary Clinton in persona Questo addetto appunto di questo personaggio La notizia di per sé Potrebbe lasciarci indifferenti In realtà non è così Perché comunque molte persone Vengono influenzate da questo tipo di informazione E c'è stato anche il caso di un 28enne Che si è presentato lì armato di fucile automatico Dicendo che voleva indagare su questo caso Quindi sono questioni che poi Notizie false Che possono produrre poi eventi effettivamente veri Come diceva La rivista attraverso Possiamo qualcosa di un po' Sì Sì Se Gabriella vuole aggiungere qualcosa Su questo argomento Io farei Questo qua Seppucuro Lo farei E poi Diamo una parola Vai Sì Ah Gabriella Ok quindi In parte Per concludere la storia Noi pensavamo di migliorare il mondo Dimostrando che tutte le notizie Potevano essere false Quindi rendere le persone più consapevoli Invece abbiamo Toccato con mano Che in realtà le persone Non sono diventate così consapevoli Come noi pensavamo Però insomma Forse è un processo Lento Cui dobbiamo Come dire Dobbiamo attendere ancora Un po' di tempo Il secondo progetto Di cui vi parliamo Invece non ha a che fare Direttamente con le fake news Ma ha a che fare con Come si diceva prima Con lo spazio pubblico Sì Che in realtà Noi definiamo Spazio pubblico Qualcosa che Fondamentalmente è privato E questo progetto Appunto Mette in evidenza Questa piccola differenza Esattamente Cioè Il web 2.0 Appunto con questa retorica Molto edulcorata Della democrazia E dello spazio pubblico E ometteva Sistematicamente Quella che poi È un dato di fatto Ovvero che Diciamo Il proprietario Il gestore No il proprietario Proprio Di questo spazio pubblico È un privato E in quanto privato Ha tutto l'interesse A fare profitto Quindi Lo spazio pubblico Per eccellenza All'epoca del progetto Ma anche oggi Se vogliamo È Il social network Facebook In cui Che indubbiamente Non voglio negare Che abbia Come dire Dato la possibilità Di Abbia avuto Dei risvolti In qualche maniera Di Organizzazione Dal basso Ma Come dire Dovremmo In qualche maniera Sempre interrogarci Quali sono Le regole Sottese A questo spazio pubblico In qualunque spazio Ne si vada Ci sono delle regole Non scritte O scritte E in questo caso Noi non le sappiamo Noi ci scriviamo In genere Quando ci compare Il messaggio Sei d'accordo Non si va Oltre il pulsante Ok Si pinge ok E accettiamo Delle regole Di cui sappiamo Pochissimo Dobbiamo sempre sperare Che il nostro interesse Sia quello Della piattaforma In alcuni casi Questo non è Vero E in quei casi lì Si viene solitamente Censurati Ad esempio Visto che poi Si parla anche di anonimo All'epoca Diciamo Il mondo pre-Facebook In qualche maniera Il mondo internet Pre-Facebook Era un mondo In cui La nostra identità Era La nostra identità virtuale Era un'opportunità Per uscire dai confini Della propria identità Si poteva essere Uomo Donna Si poteva Come dire Proiettare In questo spazio Come dire Quello che la nostra vita Diciamo Di tutti i giorni Non consentiva Di esprimere Tanto è vero Esistevano i nickname Cosa che Piano piano Stanno svanendo No? Tutti avevamo L'email Con i nomi più strani Ora Una cosa che per esempio All'epoca Nessuno sapeva E ora si sa un po' di più E che per esempio Quando noi si dà Il famoso ok A Facebook Noi Come dire Dichiariamo Che Ci scriviamo Con il nostro Vero nome Cioè Noi non possiamo Usare un nome Che non è il nostro Ovviamente Io so Qualcuno mi potrà dire Sì ma io ho usato Un nome che in realtà Non se n'è accorto Sì Però voi state Trasgredendo Una di quelle famose regole Che vi potrebbero Come dire Far uscire In maniera Come dire Sistematica Da questa piattaforma Questo perché Perché Facebook Aveva E ha tuttora Come dire La necessità Di tracciare E riportare La vostra identità Reale Sulla dimensione Virtuale Non a caso Noi Su questa piattaforma Indichiamo la scuola Che abbiamo fatto Il lavoro Tagghiamo i nostri amici Nelle foto In qualche maniera Creiamo una mappatura Completa Del nostro quotidiano E che è una mappatura Che indubbiamente È comoda Ci consente di stare in contatto Con i nostri amici Però in qualche maniera Ha come dire Anche dei lati oscuri Ora Questo è Per cercare un po' di stringere Perché il progetto È abbastanza complesso E si è sviluppato Anche in un periodo Abbastanza lungo Quindi il contesto Era quello Si parla di democrazia Si parla di spazio pubblico C'era questa ondata Di ottimismo Legata a queste piattaforme Quello che proponemo noi Era come dire Un social network Che avesse una prospettiva Completamente rovesciata Qualsiasi servizio In cui A cui voi Vi iscrivete Voi Io Lui Chiunque si iscrive Prevede l'entrata Difficilmente Si esce da un servizio Quindi in qualche maniera Noi volevamo giocare Su questa prospettiva rovesciata Anziché un servizio Che ci facesse entrare Volevamo creare Uno spazio Che ci facesse uscire Tra le altre cose Il tema di quest'anno È uscita di emergenza Della biennale E in qualche maniera Uscire In che modo? Si parla di vita virtuale Il modo per uscire da una vita È necessariamente il suicidio Esattamente All'epoca si parlava appunto Di una vera e propria vita virtuale Sui social network E riprendendo Come dire Il nome Dall'antico suicidio rituale Giapponese Ovvero il seppuku Proponemmo un servizio Che funzionava a tutti gli effetti Che consentiva Agli utenti facebook Di suicidarsi Non realmente ovviamente Ma di Disconnettere il proprio account Da Da quello di facebook Nel fare questo Tutti i nostri contatti Ricevevano Un nostro messaggio Un nostro email In cui veniva detto Che Facevamo seppuku E invitavamo le persone A fare altrettanto Quindi L'idea era Di creare Un contesto virale Un po' come quello Che aveva iniziato Facebook Nel momento in cui La gente si iscriveva E invitava i propri amici A entrare Cioè quindi sostanzialmente Non ci eravamo limitati A dare la possibilità Di come dire Uscire Ma volevamo In qualche maniera Mettere in moto Un meccanismo A catena Perché se io Sì Ok stringiamo Nulla Ve la faccio breve Questo servizio Sostanzialmente È partito nel 2009 Tra le altre cose Qui a Torino Alla manifestazione Share Festival E Nel momento Che è stato lanciato Dopo due mesi È stata fatta chiudere È stata fatta chiudere Dopo 20.000 suicidi virtuali Tra le altre cose È stata fatta Posso aggiungere Posso aggiungere Che Nel momento in cui Ci si suicidava Così come faceva Facebook all'epoca Il sistema Mandava un'email A tutti gli amici Che erano iscritti Su Facebook Dicendo Guarda che io mi sono suicidato Su Facebook Fai così anche tu E quindi È stata veramente Una cosa virale Ok Quindi Sostanzialmente Uno potrebbe dire Sì vabbè è una goliardata Indubbiamente lo era Noi ci siamo divertiti Tantissimo Abbiamo ricevuto Gli insulti Dei programmatori Di Facebook In tutte le salse Abbiamo ricevuto Le lettere Degli avvocati di Facebook Anche quelle In tutte le salse In tutte le salse Ma al di là di quello Quello che trovo Più interessante Oggi È capire Perché Facebook Si è voluto In qualche maniera Tutelare Mandandoci la lettera Dall'avvocato Che poi Se vogliamo Da un punto di vista La comunicazione Ha fatto gioco A tutti A noi A loro Eccetera Perché Indubbiamente Si poneva l'accento Sul valore economico Che voi tutti Avevano Che noi tutti Abbiamo Nel momento In cui stiamo Su queste piattaforme 20.000 persone Che si disconnettono Cominciano A avere Come dire Un valore Consistente In qualche maniera Io non credo Che avremmo In qualche maniera Cambiato il mondo Con quel servizio Però Nel momento In cui è arrivata La reazione Di Facebook In qualche maniera Si è resa palese Questa cosa Che Abitiamo Uno spazio privato E come cittadini Noi siamo Produciamo Profitto Per chi Come dire Possiede Lo spazio Che noi abitiamo Ti fa aggiungere qualcosa No solamente Che Dicevamo prima Che non ci definiamo Attivisti Però condividiamo Con gli attivisti I problemi Quindi Abbiamo avuto Nel nostro Corso di opere Che vi abbiamo presentato Alcune cause In Italia Alcune intimazioni Come questa Internazionale Qualche minaccia Di morte Della Cina Però tutto sommato Siamo qui Questo studio legale In particolare Perkins Coie All'epoca Rappresentava Google Facebook Microsoft Barack Obama E ovviamente Era un po' difficile Pensare poi Di mantenere Il servizio attivo E farlo funzionare Alla luce Di queste problematiche Però insomma È stata un'esperienza Interessante Anche per mettere In luce Poi quello che Era l'interesse Effettivo Della social network Ok Grazie Ok Gabriella Ok Gabriella Ok Gabriella Go up there Yes If artists Are in charge Of fake news It's ok If crazy American conservatives Are in charge Of it It's not so ok I'm just going to talk Very briefly Because I think It's much more Interesting to hear From the artists Themselves Who are involved In the scene Of net art Which we've heard So much about But I believe Hacking and hacker Was in the title And you might be wondering What does this have to do With hackers In any way And what was so great About Simona's Introduction Is that You know She emphasized How first of all While the technological Conditions may be new For some of this art And the medium Is often technology There's a lineage In the art world With data And situationists And that kind of Engage in similar practices But what's interesting Is that this world Of net art And net artists Are definitely not The same as the world Of hacking and hackers But there's some Contact points There's some similarities And there's some Affinities And I just Really briefly Want to emphasize What some of those are Really for five minutes Because it might be Surprising Because you know Most people When they think Of hackers They probably Oh wait I need to Do this I think And now I need to do this I need to do this Yeah You know When people Think of hackers They often Think of criminal People In the dark web Who are going to Steal your credit cards Or maybe You've seen Some Hollywood Renditions Of hacking Which make it Look really cool When it's often Just like a nerd On his bed Hacking away Or maybe You think about Hacktivists Right And actually The world Of hacking Is pretty Complicated There's many Technological ways To hack There's many Differences Depending on Whether you're In Europe Versus the United States But I want Again Just to emphasize The few points Of similarities That help you Understand why The prank And the cultural Hack Kind of have These affinities And so One of the Really interesting Things Is that The original Meaning Of a hack Was a prank Actually And so The name Hack Came into being At MIT A university In the United States And the Original meaning Was a prank And this is A good Definition MIT hacks Are creative Whimsical And often Completely difficult Campus pranks Orchestrated By anonymous Students Working with Military position In the dark Of the night And one Of the Hacks Which still Happen At MIT Have to do With a building Which is a dome And They will do Things like Put a fire Truck A real fire Truck On top Of the dome Or in the Middle of the Night They will dress The dome To look like R2D2 And this Kind of Sense of Playful pranking Is one That's still Very important In the technical Aspects of hacking And obviously Is really important With net art As well I just thought I would also Just give you A sense Of the Definitions Of hacking From hackers Themselves They have a Dictionary There should be A Y There at the End But you can See that the First two Definitions Are actually Opposite From each Other A hack Is originally A quick job That produces What is needed But not well And also An incredibly Good and perhaps Very time Consuming piece Of work That produces Exactly what Is needed And then finally To interact With a computer In a playful And exploratory Rather than Goal directed Way What's up Oh just Hacking So these Are some Of the Kind of Core Definitions Of hacking But that's Where the Simple story Ends And then things Become very Very complicated Depending on Whether you're Looking at Hackers who Write free And open Source software People who Want to liberate Software Whether you're Looking at Hackers who Are writing Encryption And privacy Software Whether you're Looking at Hackers who Are part of A transgressive Community willing To break the Law for their Hacking Or whether You're looking At pirates For example Who are A kind of Different breed Of hacker So there's Just this Kind of Diversity To the World of Hacking And again What I find So interesting About net Art is Again It's not Not quite The same Thing As hacking But has A really Really nice Interface With that World So the Final point I want To make And I'm Going to Skip over Slides Just to Get there Is again I think One of The core Elements Of hacking And whether Whether it's Free software Piracy Writing Encryption Is what I Called craftiness Which apparently Doesn't have a Good italian Translation I asked a lot Of people Today But there's These attributes Of wits And deviousness Deception Cleverness Trickery That are Really really Common in the World of Hacking And I think Net art Of what we've Seen One of the Fundamental Attributes Is precisely This drive For wittiness Cleverness Deviousness And I think We saw that Especially with These projects And I mean I didn't know It was you guys Who made the Sepulco But that was Like incredibly Popular In the hacker World Like everyone Was sharing it Because it's Just very Very clever Sort of Way to Remark On the Downsides Of Facebook And also Provides an Exit strategy As well And again I think One of the Great things About hacking Is a Willingness To bend Rules To break Rules And sometimes It's full On law Breaking Which occurs Also with Net art And you get These threatening Letters from Lawyers And thankfully Hopefully Other lawyers Who help Defend you To just Breaking Sort of Norms As well And to Finish Really going To finish Again I think That sociologically There's a lot Of diversity To hacking And it's Important to Keep that In mind But there's A kind of Core element Of trying to Think outside The box And be Clever And a little Bit devious And someone Shared this On twitter Recently Which I Thought was A really Good way To capture What the Nature of Hacking Is and What the Nature of Maybe net Art is And so There was A picture Of a Young boy Who you know Food isn't Allowed in The living Room His tablet Isn't allowed In the kitchen He beat The system And then Someone tweeted This is the Exact moment When a kid Became a Hacker Without even Knowing it So just Leave it at That because Hopefully We can have Some time For questions About this Amazing world Benissimo Grazie a tutti i Partecipanti È stato Molto illuminante Proprio Tracciare Questo percorso Negli anni Allora Abbiamo pochi Momenti E sarebbe bello Continuare Ma mi piacerebbe Proprio coinvolgere Il pubblico Sperando Che ci siano Delle domande Ragazzi Fatevi avanti Alzate la mano Ok Allora Mi farebbe piacere Proprio Bene Il parallelo Con Tra gli hacker E La net art Che si dedica Alla politica È stato steso Ma Non Approfondito Che cosa Ti piacciono Che cosa Piace di più Della net art Che manca Un po' Agli hacker Diciamo E viceversa Che cosa Vi piace Degli hacker Che vorreste Avere Nella net art Che c'è That's a great question. Wait, I'm going to have to think about that for a second because that's a really, really, really good question. Okay. I mean, you know, actually, okay, I think I have an answer. So there's a lot of really important hacker projects. And I think sometimes when they are being advertised to the world, I think a really good flashy prank or video can be a really good way to kind of communicate the message about why, you know, tour is important or something like that, right? And, again, I think that people from the net art world are really, really creative in terms of how to signal the message. And sometimes that's a little bit lacking with some hacker projects. So that's, I think, what I would say. Okay. Beh, diciamo, mi piace che gli hacker difficilmente li prendono. Questo è sicuramente un punto a favore che permette anche poi magari di muoversi con una certa libertà. Quindi un collettivo artistico, come dire, sì, anonimo, però che va contro un po' l'identità dell'artista che vuole essere comunque protagonista. Un progetto come Luther Blissett forse alla fine farebbe comodo quando si fanno certe cose. No, io devo dire rispetto al mondo dell'hacker che il mondo artistico è eccessivamente sovrastrutturato. L'hacker va dritto al punto. Ok. E quello mi piace. Nel mondo dell'arte invece si tende a costruire per tante ragioni, magari, si bada meno all'essenziale. O quantomeno si cerca di arrivare all'essenziale, ma delle volte si tende un po' a perdersi anche in altri meandri. Questo per la mia esperienza, diciamo. Ok. Bene, abbiamo anche creato... Ah, c'è una domanda. Ma è una domanda molto semplice. Però, a proposito dell'arte, mi viene in mente di formularne in questo modo. Che ne è dell'esperienza artistica tradizionale nel mondo della net art e, oserei dire, anche nel mondo degli hacker. È possibile che abbiano solo questo aspetto giocoso, scherzoso, oppure di, non so, invasione nel privato. Volevo capire, a livello, non so, emozionale, l'esperienza artistica dell'arte tradizionale e ancora dell'arte che è stata citata, il dadaismo, eccetera, se da qualche parte ci finisce anche, oppure se è proprio sfumata, è sullo sfondo, rimane un gioco, magari divertente, ma non sempre molto coinvolgente a livello emotivo. Ecco, bisogna sapere molto di cose tecniche a questo livello per capire queste cose sugli hacker. E qui sono un po' ignorante, però mi è venuta da formulare così questa domanda, visto che l'arte è comunque in campo. Raccogliamo anche l'altra domanda e poi rispondiamo. Lei vuole farla in particolare a qualcuno, questa domanda? Tutti, ok. Posso? Arte e attivismo in rete declinato in termini democratici. Pensate ci sia un problema di accountability? Cioè, io ne sono estremamente affascinato, ad un certo punto però penso che in mano a un hacker o a un artista digitale ci possa essere un potere molto grande e via via probabilmente lo sarà sempre di più, senza un bilanciamento di poteri. Quindi noi abbiamo visto tante esperienze che possono essere positive, probabilmente una buona parte sono positive, ma alcune negative potrebbero far saltare un sistema senza che non si sia un bilanciamento. Questo può creare... Come potremmo risolverlo? Più hacker si bilanciano, però insomma è una tematica abbastanza difficile. Ok, allora io provo a rispondere alla prima domanda e poi la seconda mi sembra che sia più per voi. Allora, dove è l'arte qua? Ma veramente arte? Abbiamo dibattuto un po' tra di noi prima di fare la conferenza e ci siamo detti, ma sì, non dobbiamo dimostrare che questa è arte. In fondo stiamo parlando di democrazia e di nuove forme di democrazia. Io ho detto, ma attenzione perché arriverà questa domanda e ci chiederanno, ma è veramente... Ero io che l'avevo esclusa la domanda. Sì, ho detto, ma sì, però sappi che comunque, ma dai... E tu sappiate che è così, perché io mi sento chiedere spesso, in modo assolutamente legittimo, e grazie per averci fatto questa domanda, così ne possiamo parlare. Addirittura appunto mi dicono, ma il segno artistico dov'è? E io dico, il segno artistico non c'è. Non c'è perché il segno, la parte, come dire, dell'abilità artistica è scomparso nel Novecento e è continuato a scomparire sempre di più nella nostra realtà. Io penso a Duchamp. L'arte dopo Duchamp è cambiata completamente. Il ready-made, la ruota di bicicletta, è semplicemente un oggetto che ha una funzione molto specifica, che era proprio quello di essere parte di un veicolo, che è la bicicletta, quindi era una ruota, girava. Semplicemente è stata presa da Duchamp e portata in una galleria d'arte e dicendo, ok, io qua gli do un altro significato, cioè un oggetto assolutamente standard, in cui io non ho fatto assolutamente niente della mia abilità, semplicemente l'ho pensato in un progetto artistico diverso, ve lo metto qua, insieme alle altre opere d'arte di questa galleria, di questo museo, e vediamo cosa dite. Allora, qua c'è stato già un culture jamming, un dirottamento culturale, dirottamento culturale dove le canoni estetici di quel momento sono stati assolutamente rotti, ovvero gli artisti abituati, gli galleristi, i critici d'arte, il pubblico stesso era abituato a opere importanti di pittura, di scultura, di cosiddette quelle che noi chiamiamo arti tradizionali, ma che in realtà esistono ancora e esistono molto bene e svolgono ancora oggi la sua funzione. Ma Duchamp è andato in un'altra direzione, cioè l'opera d'arte, ovvero il segno artistico, è diventato il suo progetto, cioè è nata l'arte concettuale. Allora, non è questo il luogo per approfondire che cos'è l'arte concettuale, ma potrebbe essere davvero interessante farlo e per capire un po' questo parallelo che io sto facendo oggi, che sembra molto semplicistico, ok, una volta avevamo Duchamp e oggi abbiamo Clemente e sì, e come? Come è successo? Sono passati tanti anni. Allora, è un pezzo di storia dell'arte da approfondire, perché nel frattempo davvero ci sono state tante cose. Il progetto artistico, l'arte concettuale, ha smaterializzato l'opera d'arte intesa come abilità artistica e progettuale manuale dell'artista, ha smaterializzato il concetto e come allora gli oggetti esistevano, oggi esistono degli oggetti digitali, dei bit, non si parla più di oggetti materiali, ma come per esempio semplicemente un nome di un sito, cioè un Vaticano.org, un dominio che esisteva già, può essere riorganizzato in senso artistico e avergli dato un significato completamente diverso, quindi anche politico e attivista. Ora, l'incanto che noi proviamo rispetto soprattutto all'arte del passato con l'arte contemporanea che poi è l'arte dopo il 1945, non c'è più, cioè non voglio, c'è un'opera di Cattelan che è un artista conosciuto in tutto il mondo, che ha delle quotazioni pazzesche, beh, non mi incanta, ce lo devo capire, ma anche Fontana, i tagli di Lucio Fontana non sono il paesaggio di Segantini, non mi danno la stessa emozione, io devo capire il progetto artistico, cos'è lo spazialismo di Fontana, perché quelle arte, perché quello lo potevo fare anch'io in fondo, no? Bene, non tutto, e questa è la domanda, ma come, ma quello lo potevo fare anch'io? Ok, prima non c'era. Ora, io rimando la questione che va assolutamente approfondita e non bastano certo questi approcci che sicuramente sono cenni, ma che lasciano il tempo che trovano, perché comunque, però ci sta una domanda di approfondimento di questo tipo. No, io volevo anch'io rispondere, perché è una domanda che mi sta a cuore, questa, proprio perché non volevi parlare. me la dicono tutti diciamo senza dirmela e quindi apprezzo diciamo la franchezza. Allora, posto che io lo dico sinceramente, non ci siamo mai posti il problema dell'essere come dire istituzionalizzati come arte oppure no, ma il problema è, l'arte è comunque una riflessione, un racconto del mondo, no? Pensiamo alla fotografia, la fotografia è guardare il mondo, no? Che ci possa emozionare o meno. Come raccontare, come possiamo raccontare il mondo contemporaneo? Cioè, se io penso agli adolescenti ma noi stessi che in qualche maniera viviamo in un mondo che non è il mondo reale ma viviamo in una dimensione separata, incollati a uno schermo e che in qualche maniera non so quanto la pittura e la sua emozionalità possano in qualche maniera raccontare. Quindi, io non credo che vada messa in concorrenza con l'arte diciamo tradizionale. Le stesse esperienze fluxus erano momenti nello spazio e nel tempo, momenti ludici in qualche maniera. L'esperienza nostra si richiama a quel tipo di esperienza, lo fa con i mezzi del contemporaneo, la rete, gli schermi e penso che in qualche maniera senza grandi pretesi ma abbiamo provato a raccontare il mondo che ci circonda. non so quanto una tecnica più tradizionale sarebbe stata altrettanto efficace, ecco, questo voglio dire. Dopodiché, da tanto in poi, l'arte è ciò che l'istituzione definisce come arte, per cui, diciamo, io ho un problema che non mi pongo e in aggiunta dico che a me piace l'arte noiosa in generale, per cui va bene anche così. Una sola nota perché non lo diciamo praticamente quasi mai ma il nostro primo progetto era un progetto ispirato molto al lavoro di Magritte e questi erano dei motivi per cui abbiamo poi un nome abbastanza francese e avevo in mente per il quadro della pipa dove c'è il testo questa non è una pipa. L'opera d'arte in quel caso cos'è la pipa disegnata o la frase che dice che non lo è perché secondo me è un confine abbastanza interessante è la reazione che ci può provocare in quel momento leggere che una pipa non è una pipa che comunque ci può fare capire che alla fine il nostro lavoro va nell'ottica di creare poi quel tipo di esperienza quel tipo di e la rappresentazione di una pipa non è una pipa certo speriamo di aver soddisfatto che non vogliono ma non è un po' più vicino, ma non è un po' più vicino, ma non è un po' più vicino, un po' più vicino, ovviamente che sono stati transparenti e accessibili e democraticamente electi, come Presidente Trump, in Italia, e magari Berlusconi, in Italia, possono acti con impunità anche se sono stati transparenti. e quindi, transparency, non, non, neccessari, neccessari, e anche, 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 perché, anche, anche, non, non, ma, anche, 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 che, ciò, anche, 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 che, anche, 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 che, ciò, ciò, ma, anche, ciò, anche, ciò, che anche, però, ciò, In fact, I do think that there is a check in power. It's called the law and jail. And it forces a lot of these individuals not to go in that direction. And many have strong convictions. And that's why they decide to do it. Again, that doesn't make everything correct. But it does, I think, actually contain this practice so much so that I personally wish there was a little bit more of it. So I think the system actually works in that way. Okay, if you want to add something else? Yes, in reality, I don't see it often, unfortunately, artists that have a power to be able to control events. I have in mind an episode of Black Mirror, right? But in reality, we are still looking at the end of the pandemic, that are those of all of us, so we have to respond to our actions and that is then a limit, at the end of what you can do, obviously. And so you have to try to keep you in the legal way and to justify what you do. If you do a provocation, you will have consequences and that is, anyway, a good limit. I hope you have answered for the part of the artistic side. Okay. Allora, ci sono altre domande? Noi siamo un po' al limite con le tempistiche. No, non vedo mani alzate, quindi grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie ai partecipanti.